Salve ragazzi, buona Pasqua a tutti. Volevo dirvi che se avevate bisogno di un regalino, di una piccola gallinella di lana, io i lavori li faccio gratis, non occorreva portarla via, anche perché queste cose qua mi sembra che non le facciano più neanche i bambini. Non è il valore, è il gesto che voi avete fatto. Comunque buona Pasqua a tutti. E beh, fai vedere sul cellulare e poi vabbè, la leghiamo. Ecco, questo è stato il ladrocinio, però vi ripeto, è proprio una questione di presa in giro tutto lì, niente altro. E questi pupazzi dove erano? Questi pupazzi ce li ho fuori dalla porta di casa, nel corridoio, dove io tutti i Natali e tutte le Pasque in questi ultimi sette anni e spongo i miei lavoretti che faccio per passatempo. E anche così per dare una nota di colore, una nota di festa. Qualcuno era voluto far festa a casa sua, ma ripeto, ci mancherebbe altro, gliel'avrei regalato. Certo, bastava chiedere. Bastava chiedere. Buon Natale, buona Pasqua a tutti comunque. No, buon Natale no, un po' presto.